Cirano il mondo di Burano Cercavo dei Cironi e i Cuglioni, vado, prego, cercavo dei vostri, fa la casetta che viene, basta, buonasera, il Cirono, il mare di Durano, piacere, Rebecca è a maga di Acidecca, prego, 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 maghi, maghi, state pure calmi, è giunta ancora quindi di fare un grossissimo esperimento, maghi cari, da circa 20 anni che siamo qua a Napoli e ancora non abbiamo fatto neanche un becco di schermo e quindi è giunto l'ora di cosa fare di riunire tutto il nostro spirito di cuore di testo, di materializzazione di occulto, di cuore, di tutto quanto e quindi è giunto l'ora di fare un esperimento un esperimento di materializzazione di un corpo occulto questo per ciò che i nostri amici non vuoi dare sì, sì, sì è giusto? è giusto? è giusto? è giusto? è giusto? sì, sì anzi vedo benissimo ragazzi miei colleghi con le nostre forze mediane occulte non è vero? ciò? di qualcosa materializzare i corpi dei ricchi e poveri scusa 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 lascia parlare Rebecca puoi parlare Rebecca scusa certamente io vorrei materializzare il corpo del cantante Scialpi Scialpi e sì e sì e sì mi colleghi scusatemi guardiamoci in faccia e guardiamoci guardiamoci in faccia appena appena con la nostra forza occulte appena appena un galletto un galletto un piccolo un piccolo galletto hamburghese vallesluga appena appena e quindi è giunto l'ora di riunirci e fare alcaena alcaena femmo alcaena allora quindi femmo la alcaena della mano sì fatta alcaena invochiamo quindi gli spiriti gli spiriti dalla cance no silenzio silenzio sì tu non sei un pitto ogni volta che compari semini la morte e la distruzione tu sei l'essenza del male tu sei il demonio enorme 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 diabolico diabolico sento luce sento 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 luce luce sento sento luce 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 Grazie a tutti. E se sì, sono il demonio, mi porterò tutti con me e mi riferisco. Per il tribù anche tu hai commesso un errore. Sotto queste sfoglie io non sono un giornalista, io sono Don Bosco. Per il tribù anche tu hai commesso un errore. Per il tribù anche tu hai commesso un errore. Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti.